uno dei problemi dei una delle bocche è che sono una delle parti più mobili del della testa fateci caso alla capoccia questa non si muove le orecchie tranne quelli che riescono che stanno a muovere io non sono capace non sono mai riuscito tranne quelli li li stanno e sono sempre in quella posizione l'arcata sopraccigliare è fissa perché è una cosa delle gli occhi stanno dentro le orbite dell'arcata composte da arcata sopraccigliare tempie e zigomi ci siamo il naso c'è un osso qui che lo che lo radica sull'arcata sopraccigliare poi c'è una parte mobile ma più che a me c'è più che smuoversi quando muoviamo eccessivamente il volto non può andare c'ha dei movimenti totalmente limitati la bocca è una roba allucinata perché c'è una quantità di muscoli qui che tirano e cosa eccezionali ok da una parte dall'altra basta su un volto che io tiro uno solo di muscoli e già sto facendo un espressione che vuol dire un significato cioè ci siamo quindi la perché perché la bocca c'ha intorno è un qualcosa che è composto da una parte alla parte superiore del teschio con il collegamento con la mascella che è estremamente estremamente mobile quindi sapere tutte queste cose va bene ma purtroppo non può bastare comunque andiamo avanti cambiamo modello non solo la bocca è la parte più mobile della testa ma questa conformazione siccome è fatta da da parti molli da parti non è un caso che cioè ricchissime d'acqua da tenuto tessuto connettivo ricchissimo d'acqua qui morbido morbido no ci sono un sacco di conformazioni bocche più più carnose meno carnose poi a prescindere magari uno c'ha c'ha il prognatismo del della mascella per quindi il labbro gli viene in avanti oppure c'ha il mento sfuggete e io indietro cioè ci sono io mi rendo conto che faccio delle facce allucinanti ci sono un'infinità di variazioni ok e per cui questo questo schemino può essere utile per rendersene conto quindi facciamo le vediamo da davanti asse centrale un ipotetico arco della bocca prendiamo le misure diciamo che la chiudiamo qua quindi questa qui la bocca la chiudiamo qui anche se allora lui che fa ti faccio prima un arco facciamo finta come struttura semplificata questi sono tutte cose che lavorando con la linea ripassata possono essere estremamente utili perché voi fate prima quest'arco poi una linea qua sotto a sto punto qui ci mettete mettete uno giusto qui ce ne mettete un altro di ce ne sono due no qui c'è uno e due questo va qua e questo va qua a questo punto questi li vedo dritti noi tagli vi ricordate quei tagli che avevo fatto sul 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 questo li vedo dritti come li vedevo prima qui c'è un punto però qui e un punto qui e poi si allarga e vi ricordate che questo qui andava al mento no no prima va cioè questo è la parte che viene in avanti poi c'è un'altra parte cioè questa va indietro questa viene in avanti e qui ci sono i due pezzi del metro questo per per farvi ricordare dov'è che siamo però non lo consiglio questa roba qui non la consideriamo consideriamo questo qui ci mettiamo un arco e qui ci sono uno e due palline di grasso e qui fa così e qui fa così quindi questo la poi questo la prova in qua peraltro qui c'è da considerare che ci sono due due piccole masse muscolari qui che servono qui intorno al cosa alla fine del bla 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 bella bra tro this is a brishiii mitä ben Grazie a tutti.